Sarà un venerdì nero quello di domani. Per i passeggeri di tutta Italia a causa dello sciopero nazionale del personale ENAV negli aeroporti, dalla durata di 24 ore, la protesta nasce da problematiche che, nonostante i diversi incontri con i vertici societari, non hanno ancora trovato soluzioni soddisfacenti per i lavoratori. L'applicazione e l'evoluzione del piano industriale, l'adeguamento degli organici, l'organizzazione dei turni di lavoro, ma soprattutto la definizione di tempistiche e contenuti del rinnovo del contratto, sono tutti elementi importanti che attendono, spiegano in una nota, Filt CGL, Fit CISL e Uiltrasporti, da troppo tempo una risposta. Per questo motivo, concludono le tre organizzazioni sindacali, porteremo avanti la nostra protesta, anche con altre azioni future, se si renderanno necessarie. Protesta che passerà dallo sciopero di domani. Diversi i voli da e per l'Italia cancellati o rinviati dalle varie compagnie aeree, altrettanti disagi, per coloro che avevano già programmato il proprio viaggio e saranno costretti a riorganizzare la propria agenda. Oltre 600 i voli cancellati da Ryanair. Modifiche nei voli sono state annunciate invece da Ita Airways, che invita i propri passeggeri a consultare la sezione voli cancellati presente sul sito ufficiale della compagnia. Sciopereranno per sole 4 ore, dalle ore 11 alle 15 invece, i piloti della società EasyJet per sostenere il proprio rinnovo contrattuale. Saranno comunque garantiti i voli previsti nelle fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. Per informazioni dettagliate sarà possibile contattare la compagnia aerea di riferimento.